Una tanica contenente un liquido lanciata davanti a casa, un atto intimidatorio compiuto nei giorni scorsi di fronte all'abitazione del sindaco di Cortona, Luciano Meoni, alla guida del comune della Valdichiana dalla scorsa primavera con una coalizione di centrodestra. A darne notizia sul proprio profilo Facebook è stato lo stesso primo cittadino cortonese dopo che le forze dell'ordine erano intervenute. Alcuni giorni fa, al mattino, scrive Meoni, appena aperta la porta di casa ho notato una tanica probabilmente lanciata da qualcuno nella notte. Era terra vicino al portone d'ingresso della mia abitazione. Chiaramente sono intervenute le forze dell'ordine, come giusto che sia. Non permetterò a nessuno di intimidirmi, prosegue poi il primo cittadino. Questi gesti sono vili e non tollerabili, non ho paura, non intendo neanche fare del vittimismo. Cerco ogni giorno di comportarmi bene, lavorando in base alle mie capacità per il bene pubblico, rispetto la democrazia e le istituzioni. Tuttavia posso dire che questo clima di odio non mi piace. Piena solidarietà al sindaco è arrivata anche dagli avversari politici della città di Cortona, che hanno condannato il gesto, tra questi il coordinamento comunale del Partito Democratico, che ha scritto fatti come questi sono inaccettabili e non devono esistere in una comunità democratica. La dialettica politica può essere aspra, ma non deve mai oltrepassare certi limiti.